ciao a tutti allora io faccio questo video perché devo mettere in chiaro delle cose in questi giorni ho avuto dei riscontri perché negativi molto negativi sul fatto che io sono pagana e sono stata giudicata per questo scusate l'aspetto ma oggi non avevo voglia di truccarmi io sono pagana da quando avevo 15 anni pagana perché a dire vero sono pagana perché rientro di più nel nella cultura pagana ho mischiato anche le credenze della cultura celtica ma in realtà le mie credenze sono un po mischiate dalla cultura ho preso un po del buddismo un po del dell'induismo e del paganesimo e e anche a volte anche qualcosa delle credenze del degli indiani d'america perché perché io amo la filosofia non è una religione il paganesimo l'hanno messo sotto religione ma sinceramente il paganesimo non è una religione lo era ai tempi lo era vi era visto come una religione ma in realtà non era una religione era una filosofia come lo erano come erano filosofi coloro che la seguivano viene detta religione perché comunque si credeva in qualcosa in qualcosa di preciso io non sono d'accordo con le wiccan sinceramente il paganesimo che seguo io non è il wiccan il paganesimo che seguo io è il vecchio paganesimo antecedente al cristianesimo quello ancora di democrito quello degli elementi quello che ma non era neanche quello perché io seguo i cinque elementi seguo la madre terra seguo la madre natura seguo tutto quello che che si sente e si vede ma sentirmi umiliare da un cristiano perché io sono sentirmi dire tu sei tu sei una tu tu non puoi come dire tu vuoi dei figli mi hanno chiesto io ho detto no io non voglio figli mi hanno detto così vai contro il volere di dio e io ho detto perché 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 devo mettere al mondo dei figli in un mondo così perché perché tu perché tu cristiano devi obbligare me a esserlo perché tu cristiano mi devi venire a dire di non studiare mi sono sentita dire più volte tu studi troppo tutto quello che leggi ti ha rovinato no ragazzi no questa è una vergogna io sono fiera di leggere e studiare sono fiera di avere la concezione la mente aperta e io non giudico nessuno se tu vuoi essere cristiano cattolico fai quello che vuoi ma fallo con coscienza e fallo realmente seguendo il tuo credo non sei cristiano e non vai in chiesa o ci vai soltanto per determinate cose e non preghi mai i musulmani loro sono veramente credenti loro ad una certa ora si fermano qualsiasi cosa stanno facendo e si mettono a fare quello che la loro religione impone di fare stessa cosa i buddisti stessa cosa gli induisti stessa cosa tutti gli altri tranne i cristiani cattolici tranne loro noi italiani soprattutto noi italiani siamo la vergogna del mondo voi non potete dire tu stai leggendo troppo da quando eri piccola leggi troppe cose quindi ti stai rovinando ragazzi vi vi rendete conto di chi ha detto queste parole prima ancora di voi chi era chi era la persona che non voleva che il popolo che il popolo leggesse chi era la persona che ha fatto bruciare tutti i libri chi era la persona che ha fatto che ha fatto bruciare tutta la cultura che voleva un popolo ignorante rifletteteci e ancora prima ancora prima qui parliamo del terzo secolo avanti Cristo se non il terzo quarto secolo avanti scusate dopo Cristo e riprendo i pazzi di Alessandria riprendiamo i pazzi di Alessandria in quel periodo è nato il cristianesimo ma attenzione perché la Bibbia la Bibbia era stata scoperta prima e non dai cristiani la Bibbia è un libro ebreo e se voi aprite la Bibbia parla di ebraismo non parla di cristianesimo perché io la sto rivisitando la Bibbia ed effettivamente è come avevo studiato state attenti a quello che dite perché rischiate di finire nel circolo vizioso dei di di coloro che volevano il popolo ignorante io leggo e studio per essere libera leggo e studio perché amo leggere e studiare mi dispiace che ho dovuto bloccare un'università ma io farò lo stesso un'università per conto mio io non sopporto e non tollero che si venga a giudicare la persona perché non segue le regole del cristianesimo io sono contraria a queste persone sono contraria a chi impone e obbliga gli altri a essere quello che vogliono che gli altri siano voi seguite quello che volete seguire volete essere cristiani cattolici siatelo ma siatelo con costanza volete essere musulmani siatelo volete essere buddisti atei volete essere induisti volete seguire qualsiasi religione o filosofia fatelo io non nego niente a nessuno ma non tollero di essere giudicata per il mio credo non lo tollero perché soprattutto perché io leggo tanto filosofia sì leggo tanta filosofia e da quando ero piccola ho studiato ho studiato tanto sono stata obbligata a studiare anche la religione sono stata obbligata a fine 18 anni ho cantato in un coro gospel quindi per cinque anni quindi sinceramente la religione la seguivo per forza ma non era la mia strada io sapevo fin da quando avevo 15 anni di avere delle delle radici proprio pagane quindi e sentivo proprio dentro di me di essere pagana perché tutto quello che faccio è rivolto alla madre terra agli elementi a tutto quello che alla natura io ho rispetto per la natura ho rispetto per tutto ciò che è natura terra acqua fuoco spirito e aria ricordatevi ricordatevi che tutti tutto questo è stato già rivisto mi è stato detto tu parli di cose già passate non prete e io gli ho risposto mi scusi ma voi state pregando e continuerete a pregare su un libro passato che non si sa chi l'ha scritto e è stato manipolato tante 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 volte oltretutto non gliel'ho detto è un libro ebreo quindi per favore io sono libera nell'ascoltarvi sono libera nell'accettare tutti ma è anche giusto che voi mi accettiate per quello che sono io in realtà perché io sono pagana non sono più cristiana anche se ho purtroppo tutti i come si dice vabbè ho fatto comunione cresima ho dovuto seguire la chiesa anche a scuola ho dovuto fare religione per obbligo tutti i sacramenti non mi veniva la parola scusate ma io non sono cristiana non sono cristiana e è sbagliato da parte di chiunque che sia un prete che sia un familiare che sia un amico che sia chiunque obbligare obbligare qualcuno ad essere ciò che l'altro vuole che sia non so se mi so spiegata perché scusate ma sto improvvisando questa diretta non so neanche se mi state seguendo ma sono molto 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 irritata perché soprattutto per la questione del tu leggi troppo studi troppo ti rovini no ricordatevi questo e l'han detto in tanti l'han detto tanti 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 persone famose e tanti scienziati la cultura non è un male chi legge chi studia è libero chi non legge e rimane nel dubbio è in galera è in una galera in una gabbia il fatto di non leggere di non informarsi e non parlo di wikipedia non parlo di di facebook parlo proprio di aprire un libro dell'enciclopedia e ristudiare la storia o la letteratura o la filosofia o la religione o addirittura la bibbia direttamente i libri di platone o qualsiasi altro libro perché la gente non vuole aprire perché uno non ne ha voglia due non ne ha tempo tre non vuole sapere la verità perché la verità fa paura la verità ha sempre fatto paura infatti le donne e gli uomini che ai tempi dicevano la verità venivano bruciati sul ruogo io stessa con questo discorso sarei stata bruciata sul ruogo o lapidata come hanno fatto con i pazia bruciando vi ricordate questo aneddoto io sì 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 sono fissata con i pazia esatto no sono fissata perché era una donna era una filosofa e nessuno mai nessuno l'ha citata sui libri di scuola è raro trovare il suo nome eppure ha dato un contributo spaventoso alla filosofia alla scienza all'astronomia soprattutto e che cosa è successo in quel periodo? successe che i cristiani entrarono ad Alessandria d'Egitto obbligarono tutti loro eh tutto il popolo di Alessandria d'Egitto a convertirsi al cristianesimo e chi non voleva convertirsi veniva ucciso lapidato o bruciato stessa cosa con le biblioteche hanno praticamente preso tutte le statue tutte le statue degli dei pagani le hanno distrutte frantumate hanno distrutto tutto quanto tutto quello che era pagano comprese le biblioteche dei filosofi le biblioteche che comprendevano che avevano dentro tante di quelle tanta di quella cultura millenaria tanta di quello studio tante di quelle cose e lì dentro c'erano iscritti di pazia io sono sicura che non siano andati persi ma era una donna ricordatevelo era una donna e di chi è il potere il potere il potere è sempre stato dell'uomo potere maschile maschilismo accademico politico casalingo è sempre stato così io sono convinta che da qualche parte che da qualche parte nelle biblioteche del Vaticano o di Alessandria d'Egitto che hanno ricostruito qualche scritto di pazia sia rimasto è rimasto nelle nei ricordi negli scritti dei suoi allievi che casualmente si sono salvati casualmente erano uomini casualmente gli scritti del padre di pazia si sono salvati ma chi è stato a distruggere e uccidere tutte queste persone tutto questo tutta questa cultura chi è stato a prendere i pazia coglierla di sorpresa ucciderla lapidandola e tagliandola a pezzi per poi bruciarne i resti sono stati i cristiani quindi non lamentatevi se io sono incazzata nera perché la storia che ci fate studiare non combacia con la religione che ci fanno studiare quindi o togliete la religione nelle scuole o togliete tutto il resto delle delle materie perché la storia la filosofia e la letteratura come la storia dell'arte non combaciano mai con la religione che viene fatta studiare a scuola quindi uno se ha un po' di curiosità se ne pone di domande voi rifletteteci su sono cose passate sono cose passate è vero ma sono cose ancora attuali perché la donna non potrà mai ancora 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 non potrà mai essere una una leader per questo per questo non scusate non potrà mai essere una leader e ce ne sono tante ce ne sono state tante 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 ma vi siete mai chiesti perché alla casa bianca non ci sarà mai una donna come presidente c'è un motivo c'è un motivo vi siete mai chiesti perché i preti sono tutti uomini eppure io ho conosciuto una una reverenda donna cristiana per la prima volta non mi ricordo dove è successo ah sì ok sì nella reverenda donna nella però era in una chiesa cilena e tra di loro non hanno questo questo problema sappiate che la donna nelle nelle culture antiche dell'Africa era una matrona era lei che conduceva la casa era lei che conduceva la vita era lei che conduceva tutto quindi guai a toccare la donna guai e adesso invece veniamo giudicati tutti quanti chi per una cosa chi per un'altra vi sembra giusto? io non lo trovo giusto scusate per la mia diretta lunga ma era necessaria e spero di non avervi annoiato e spero di non aver detto troppe cavolate e mi scuso se ho offeso qualcuno ma volevo esporre il mio punto di vista ciao a tutti buona giornata alla prossima per la mia per la mia per la mia per la mia